Cari studenti, cari studenti, l'Università degli Studi Mediterranei di Vecchio Calabile vicino a te, per l'anno accademico 2020-2021 offre un ventaglio di opportunità formative e occupazionali con diverse novità, in agraria come in architettura, nel settore dell'economia come in giurisprudenza, nel campo dell'ingegneria come in quello delle scienze umane. Tutte parole chiave di un'offerta formativa solida, variegata e al passo quei tempi, con 22 percorsi e 44 possibili diversi indirizzi o pubblici, e poi 5 percorsi di dottorato di ricerca, la scuola di specializzazione per le professioni legali e gli altri percorsi post laurea, percorsi di qualità che si avvantaggiano di punta d'eccellenza nella ricerca e riguardano anche ambiti formativi esclusivi in Calabria e nell'area dello stretto, collaboratori all'avanguardia, a volte unici, con numerosi collegamenti internazionali e un ovvio riguardo al Mediterraneo, di recente anche nel campo delle scienze e tecnologie spaziali. In questo periodo, per tenersi vicino agli studenti, alle famiglie, alla scuola, l'Università Mediterranea non si è mai fermata. Un impegno di servizio a distanza ma senza sosta, per le lezioni e le esercitazioni, gli esami di profitto, gli esami di laurea, le attività di tutorato, i tirocini, i dottorati di ricerca, i corsi di specializzazione per l'ingresso nel mondo della scuola e con le risorse bibliografiche e digitali sempre alla portata di un clic. Sono fiorite le videoconferenze rivolte ai giovani, tante iniziative, a volte a illuminare le scelte per il futuro, tutte disponibili in rete per mettere in luce le sfaccettature e le opportunità dell'offerta formativa. Siamo stati vicini anche alle altre istituzioni del territorio, non solo calabrese, a cominciare dai presidi ospedalieri, vicini grazie alla competenza e all'impegno del personale dei nostri laboratori. Non sono tardate le iniziative per dare più respiro alle famiglie chiamate a sostenere gli studi. Faremo sentire la nostra vicinanza agli allievi della scuola anche in occasione degli esami di mobilità. Stiamo pensando alla migliore accoglienza possibile delle nostre future matricole. L'omaggio di utili supporti informatici personali, come può essere un tablet, potrà agevolare alla fruizione dei servizi attivati. La creazione di uno sportello telematico informativo personalizzato potrà anche agevolare la vita universitaria di tutti i giorni. Tanti sono i servizi gratuiti. Sarà ad esempio possibile il tutorato personalizzato, i servizi navetta di trasporto, i servizi sportivi, i servizi medico-sanitari, i servizi ricreativi e molti altri ancora. Si amplierà la scelta per l'esperienza Erasmus all'estero. Rimarranno facilmente accessibili i due moderni e confortevoli residenze universitarie. Si incrementeranno le borse di studio, i premi di laurea, i sussidi, come le possibilità di collaborazione retribuita degli studenti alle stesse attività dell'Ateneo. E' anche bene che studenti e famiglie sappiano che stiamo puntando a completare l'assetto urbanistico della cittadella, a potenziare strutture e impianti residenziali e sportivi, a promuovere la nascita di un grande campus per l'innovazione. In sostanza si stanno moltiplicando le opportunità in un luogo con risorse e bellezze ambientali, paesaggistiche e culturali certamente uniche. L'Università Mediterranea esce rafforzata da questa base, i servizi migliorati e ampliati, in un ambiente sano, accogliente, stimolante e a contatto col territorio e il mondo professionale e produttivo. Una università ancora più vicina a te. L'Università Mediterranea